L'iniziativa Dillo al Ministro, promossa dalla nostra testata, ha riscosso un successo veramente straordinario. Sono infatti migliaia i docenti di tutta Italia che ci hanno scritto per segnalare un problema da sottoporre al Ministro. Al gruppo Facebook che abbiamo aperto risultano ormai iscritti poco meno di 8.000 persone. L'idea era nata dopo che il Ministro Fioramonti, all'indomani della sua nomina, aveva dichiarato la sua disponibilità e anche il suo interesse a confrontarsi con i nostri lettori. Noi lo abbiamo preso in parola e abbiamo invitato tutti quanti a scriverci. Le domande che abbiamo raccolto sono davvero tantissime e abbiamo dovuto lavorare non poco per metterle in ordine, cercando fra di esse un filo conduttore. I problemi più gettonati riguardano il precariato, svuotamento delle GAE, assunzione dei docenti vincitori dei concorsi 2016-2018, approvazione del cosiddetto decreto salva precari e avvio di pass e concorsi straordinari sono obiettivi considerati prioritari da moltissimi lettori e vengono addirittura prima dell'adeguamento degli stipendi. Un altro tema che riscuote grandissimo interesse è quello del rientro a casa delle migliaia di docenti esiliati con il piano di assunzioni della legge 107. Ma c'è anche molta attenzione ai problemi della riduzione del numero di alunni per classe e degli organici insufficienti per garantire l'inclusione degli alunni disabili. In molti chiedono poi che il ministro proceda alla abolizione del bonus per il merito e delle prove invalsi. Il ministro, da noi interpellato proprio in questi giorni, ha garantito che in tempi ragionevoli risponderà alle richieste dei nostri lettori. Certamente, in considerazione del numero e della complessità delle questioni sollevate, i tempi non potranno essere brevi. Comunque voi continuate a seguirci sia su questo canale sia nel nostro sito www.tecnicadelascuola.it e ovviamente continuate anche a scriverci, a farci domande e a intervenire con le vostre proposte. Un arrivederci dunque al prossimo giovedì. Grazie a tutti.